Saverio, grande attesa per quello che è un successo che dura da 20 anni, che piace al pubblico sempre e che ha una marcia in più rispetto a tutti gli altri musici. Sì, ha una marcia in più che io credo perché è un musico degli anni 70 che si ispirava agli anni 50, quindi già allora quando è nato era una rivisitazione. Questa rivisitazione è possibile farla anche negli anni 90, negli anni 2000 e nel 2017, è quindi quello che abbiamo fatto noi. Cos'è cambiato rispetto a 20 anni fa? Beh, sicuramente ho 20 anni di più e questo vuol dire molto, ma è cambiato il mondo, il panorama del musico in Italia. Gris è stato un'apripista, dopodiché il teatro italiano è stato invaso da musical, quindi c'è un'attenzione. Sicuramente i performer sono bravissimi oggi, quindi ecco, tutte queste cose portano a una nuova versione con un'energia più contemporanea. L'energia che non è mai mancata Gris perché quando si torna a casa la gente canta, balla, esce a teatro che balla, arriva a teatro già in costume anni 50. Esatto, esistono tanti tipi di energie e Gris ce n'è una che è inconfondibile, però vanno tutte quante sempre tradotte nell'epoca in cui viviamo. Vogliamo fare un invito per venire al Teatro della Luna? Sì, venite perché vi divertirete tantissimo, se non l'avete mai visto vi stupirete, se l'avete già visto vi stupirete ancora di più.